E quindi in questa preziosa chiavetta c'è il file con la vera identità del patio. Non pensavo ai passi mai il giorno in cui l'avrei scoperta. Allarmi disattivati, tutto tace e nessuno ha più scatole nei paraggi. Perfetto! Sono stato preseduto di poco. Ciò non di meno non ti permetterò di portare via con il taglia. Scoprirò che va, lo ucciderò e tutti saremo felici con te. Ma non piacere che aspetta a me. Sei arrivato tardi, lo hai detto tu stesso. Apprensio il tuo legato completo anni 30. Ma se ti levi e ritorno finisco il mio lavoro e me ne vado. Se non ti dispiace. Non vorrei aver interrotto qualcosa. Ma io sono qui per quella. Mi devi andare per il maldestino deciso altro per voi. Sicuramente non ho neanche il tempo di lasciare la maldita per decidere che posto sordi. Quindi io potrei per uccidermi subito nelle varie tene. No, ci mancava altro testosterone a questa già nerviosa notte. Per i miei cuspici c'è già veronia e poi piovo in mare. Ah, c'è una festa qui. E non sono stata evitata. Sono quasi d'offesa. Ragazzi, che è successo? Tu sei riuscito da un film dell'olore. E tu invece... Oh, poveri, no? Mi sembra un po' detterito a guardarti in faccia. Perché non vai mangiare qualcosa a poter una mattina vicina la soffia? Ah, beh, fortuna che ho portato le forze. Tu? Pensavo non la fatti per nessuno. No, mi interessa quello che mi sa. E non mi interessa il tempo. Io voglio solo uccidermi. Il suo volto non vedrò una volta le vado di me. Vuol dire, posso lasciarti invece le decine un'altra, ma voglio farle parte. Di altro il dubbio dei soldi che ti danno lì se ti alle vuole. E poi pensi di essere il primo in realtà di un classico. Ma adesso mi ti aiuta in questi casi. Ha rinunciato un po' sbagliato questa nuova carica. Però, la proposta a mettarti, sono molto indeciso al momento. Ah, questa notte sta diventando più ridicola di come me l'ero immaginata. Beh, metteremo giocata a una schiaffa. Io concludo, la termine di lavoro. Mmm, classico stado alla messicchiana. Sto iniziando a stocchiarmi in questa situazione. Forse è meglio mettere tutti a tacere. Grazie! Che lotta di grotti criminali di questa città. Ci cascamo sempre tutti. Barman! Barman! Ma che? Ma qualcuno ha detto Barman? Ah, non c'è il suo barco, il cappellaio. Oh, ma quindi non c'è il suo cappello? Il suo cappello non ti salire nulla. Basta sapere dove trovarlo. Fai quello che dico. Sì, davvero? Uh! Il mio dolore di testa mi accompagna la testa. Tanto, alla fine dei giochi, sai tu, è l'unico di me. Eh? Hai detto qualcosa? Ah! No! No! Niente! Oh! Oh! No! 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 Grazie a tutti.